Musica Chi è Alfa Value Management? Alfa Value Management è un SGR di diritto maltese, siamo nati nel 2011, abbiamo poi aperto la branch in Italia e siamo una società di gestione che principalmente forniamo servizi di consulenza, gestioni patrimoniali e abbiamo due SICAV, una riservata agli investitori professionali e una invece riservata agli investitori retail. Siamo presenti a Malta dove abbiamo la nostra fabbrica a prodotto e i nostri gestori e abbiamo una branch a Padova per la distribuzione dei prodotti sulla clientela italiana. Perché avete deciso di partecipare al Lugano Fan Forum? Quest'anno per la prima volta abbiamo deciso di partecipare al Lugano Fan Forum perché pensiamo che possa essere una vetrina per gli operatori e possiamo farci conoscere in maniera più importante rispetto ai nostri canali tradizionali. Sappiamo che qui vengono i principali attori nel mercato della finanza e abbiamo pensato che potrebbe essere una buona opportunità. Grazie per la visione!